Musica Voglio essere la voce dei giovani che con profonda gioia sono qui ad ascoltare il pastore che Dio ha voluto donarci in questo tempo dominato dalle incertezze e dai fragili equilibri sociali, mancanza di lavoro, fragilità nel creare legami stabili e duraturi. E' triste trovare i giovani né studiano perché non possono, non hanno la possibilità, né lavorano. Una generazione senza lavoro è una sconfitta futura per la patria e per l'umanità. Doviamo lottare contro di questo. Non possiamo diventare rassegnati di perdere tutta una generazione di giovani che non hanno la forte dignità del lavoro. Il lavoro ci dà dignità e tutti noi dobbiamo fare tutto perché non si perda una generazione di giovani. Grazie. 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 Grazie.